Musica 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 Sarai contenta adesso, un successo strepitoso sai, il pubblico applaudiva come un matto, è stato subito conquistato, eh già, eh già tu non l'hai potuto notare no, ma io, ah io, io l'ho visto benissimo, ecco l'ho visto negli occhi della gente, nel viso, ah ah ah, hai avuto un successo colossale, prima stavo nel loggione, eh, poi sotto nella galleria e poi, eh, poi nella platea, poi in un palco del primo ordine e poi io, oh, sei stanca? Scusami tanto, guardi, lasciami solo. È ma naturale che ti lascio. Ah, subito, sì? E già sei nervosa, agitata, eh. Natural, torno poi, eh. Addio. E ja, che ti lascio. Oh, io, a più, 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 a più. Grazie a tutti.